Prima il granchio blu, specie aliena, invasiva che danneggia l'itticoltura e la coltivazione dei molluschi e ora è stata trovata nel golfo della Spezia un'ostrica che non dovrebbe esserci. Qualche giorno fa ho trovato quest'ostrica nei nostri impianti di allevamento di mitili e il problema è che quest'ostrica ha il suo abito naturale nel Mar Rosso. Abbiamo l'ostrica autotona, l'ostrica che comunemente viene allevata e abbiamo le nuove arrivate, pinktada e imbricata. L'anomalia di questo ritrovamento non è tanto l'ostrica in sé ma il fatto che riesce a sopravvivere qui. Queste ostriche le abbiamo trovate dove generalmente troviamo i mitili e la nostra preoccupazione è che queste ostriche possano andare a occupare la nicchia ecologica lasciata libera dei mitili anche perché i mitili in questo momento sono fortemente predati da un sovrannumero di orate. Queste ostriche sono tipiche dei mari caldi. Il fatto che riescono a sopravvivere qui vuol dire che il mare in inverno non si raffredda abbastanza e questo è un sintomo evidente del riscaldamento globale. L'alterazione climatica qui trova conferma dalla rete di sonde che monitorano le temperature posizionate da Enea e CNR che dicono che anche d'inverno l'acqua non si raffredda come prima permettendo ad animali tropicali di adattarsi a vivere dove prima non gli sarebbe stato possibile. Grazie. Grazie. Grazie.